ciao ragazzi oggi puntata importantissima me l'avete chiesto in tanti parleremo esclusivamente del romanzo più famoso e studiato della produzione di gabriele d'annunzio ovvero il piacere pubblicato nel 1889 richiestissimo alla maturità e che rappresenta sicuramente il risultato migliore dell'estetismo italiano e anche diciamo la sintesi dell'intero periodo romano del poeta divideremo la puntata in tre momenti innanzitutto una breve introduzione in seguito racconteremo la trama infine tireremo qualche conclusione bene partiamo la scrittura del piacere venne preceduta da una lunga lettura di testi stranieri da parte di d'annunzio e in effetti il piacere possiede molti aspetti in comune con il cor con il romanzo controcorrente di wisman pubblicato cinque anni prima e viene inoltre paragonato con il ritratto di dorian gray immortale opera di oscar wilde che però verrà pubblicato qualche mese dopo il romanzo di d'annunzio il piacere è un'opera molto autobiografica il protagonista della vicenda è il conte andrea sperelli appartenente appartenente a un mondo aristocratico sfarzioso e sofisticato anche privo di valori e ipocrita e gli vuole mettere in pratica l'importantissimo insegnamento che gli ha lasciato il padre prima di morire ovvero fare della propria vita un'opera d'arte ma fallirà perché non sa mettere in pratica un altro grande principio del padre ovvero avere non averi è latino significa possedere e non essere posseduto dalla ricchezza dagli oggetti ma anche dalle donne andrea sperelli è dunque un esteta che fallisce completamente privo di forza di volontà e in balia dell'istinto dell'eros e della passione in lui il senso estetico è sempre più forte del senso morale vorrebbe realizzare due grandi progetti di vita da una parte riuscire a produrre un'opera d'arte che sia un capolavoro puro sublime vitale dall'altra trovare la donna perfetta con cui scoprire quel piacere appunto che dà titolo al romanzo andrea sperelli non riuscirà a raggiungere questi due obiettivi ed è per questo che il piacere può essere definito come la storia fallimentare di un progetto di vita con quest'opera d'annunzio vuole superare il romanzo naturalista e avvicinarsi alle nuove correnti che stanno sorgendo in francia alla fine dell'ottocento in particolare il simbolismo in effetti nel testo sono presenti alcuni simboli che ora vedremo raccontando la trama a inizio romanzo il conte andrea sperelli è in trepida attesa di elena muti con cui aveva avuto una relazione molto coinvolgente due anni prima una donna fatale molto sensuale dalla conturbante carica erotica a questo punto si apre un lungo flashback in cui ci viene raccontata la storia d'amore tra i due il loro primo incontro il corteggiamento l'esplosione della passione e l'improvviso abbandono da parte di elena che avendo trovato un nuovo amante in un lord inglese di nome edfield era partita per l'inghilterra sposandosi con lui andrea a questo punto si era lasciato andare a una vita sregolata conquistando ben sette nobile donne anche già sposate scoperto da un marito era stato sfidato a duello e gravemente ferito da un colpo di schermo durante la convalescenza trascorsa schifanoia in abruzzo andrea aveva riscoperto l'amore per l'arte e il desiderio di una vita più tranquilla qui aveva conosciuto la seconda figura femminile molto importante del romanzo maria ferres moglie di un diplomatico del guatemala che è l'esatto opposto di elena muti ovvero una donna pura amante dell'arte della musica intelligente che riaccende un sentimento amoroso autentico in andrea sperelli maria resiste al corteggiamento del protagonista che però a poco a poco nel corso del romanzo riuscirà a sedurla qui finisce il lungo flashback e il tempo della storia torna dove l'avevamo lasciato all'apertura del romanzo elena muti è tornata a questo punto le due donne si alternano tumultuosamente nella vita e nei pensieri del protagonista i loro nomi sono fortemente simbolici elena richiama la memoria elena di troia una donna che per la sua bellezza fisica causò addirittura una guerra maria invece ricorda la vergine maria un'icona di castità purezza e amore spirituale andrea sperelli non sa scegliere tra le due donne e finisce quasi per fonderle insieme grazie a un secondo simbolo molto importante un boa una sciarpa di piume indossata da elena che gli ricorda la treccia nera di capelli di maria andrea capisce così di essere alla ricerca di una terza donna la fusione di elena e maria che sommi quindi le qualità sensuali della prima con quelle morali della seconda una donna che non esiste la situazione precipita maria finalmente dopo un lungo corteggiamento si concede ad andrea tuttavia suo marito è stato scoperto mentre barava al gioco e i due sono costretti a ripartire per il guatemala nel loro ultimo incontro andrea sperelli compie un grandissimo errore l'errore più grave che può compiere un uomo con una donna proprio quando la donna si sta lasciando andare a un momento di sincera intimità andrea chiama maria con il nome di elena un errore davanti al quale non si può rimediare maria fugge inorridita e ritorna in guatemala con il marito nel frattempo anche elena rifiuta il protagonista preferendo il lord inglese edfield e così andrea sperelli si ritrova solo in crisi nella profondità della sua inettitudine il finale del romanzo è fortemente simbolico andrea torna per l'ultima volta a casa di maria in cui si sta svolgendo un'asta per vendere tutti i mobili e pagare i debiti lasciati dal marito della donna il protagonista è confuso inorridito nel vedere quella che era la casa dell'arte e della purezza profanata da facchini operai volgari e banditori che strillano senza un motivo razionale mentre si sta vendendo l'armadio di maria andrea sperelli quasi inconsciamente alza la mano e vince l'asta nella chiusa del romanzo il protagonista segue i facchini che trasportano un enorme armadio fino a casa sua come seguisse un corteo funebre ecco il terzo importantissimo simbolo del romanzo un armadio gigante ma completamente vuoto che simboleggia ciò che è rimasto ad andrea delle due donne ci verrebbe da rispondere nulla e invece no gli rimane un armadio ingombrante inutile che avrebbe dovuto accogliere gli abiti di una delle due donne l'armadio che è il simbolo del pentimento del rimorso nella coscienza per non aver saputo e voluto scegliere il peso del rimpianto che lo accompagnerà per sempre e qui finisce la storia fallimentare di andrea sperelli è interessante notare come piccola considerazione finale come questo romanzo nonostante sia pubblicato nel 1889 possieda già molte caratteristiche tipiche dei romanzi del 900 innanzitutto il protagonista non è più un eroe bensì è un vero e proprio inetto incapace di decidere e destinato alla sconfitta seconda caratteristica è la gestione del tempo non più lineare come nella gran parte dei romanzi dell'ottocento ma viene in parte frantumato basti pensare al lunghissimo flashback che apre la storia terza caratteristica è sicuramente evocata dal finale siamo di fronte a una chiusa aperta a molteplici interpretazioni relativa e non più oggettiva chiusa come poteva essere per i promessi sposi di manzoni o in malavoglia di giovanni verga bene ragazzi con questo è tutto e non c'è commento migliore a questa puntata che le parole di un grande poeta di milano la certezza non si dà nelle mani mai ciao alla prossima puntata